Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, più volte ho parlato del tema delle bollette e oggi che tutti i giornali annunciano quello che un po' noi nei giorni scorsi avevamo già detto, e cioè che abbiamo le bollette più vergognose d'Europa, l'ho detto anche recentemente in televisione, ebbene adesso tutti annunciano e dicono volano le bollette più 15,6% l'elettricità, 11,4% quelle del gas, quindi insomma a ottobre pagheremo delle bollette di fuoco. E tenete conto che ottobre sarà un mese che aprirà la stagione di quella che potrebbe essere la pericolosa deriva italiana, sia in termini di occupazione e sia purtroppo in termini di sofferenze bancarie. Quindi a ottobre ci ritroviamo le bollette care, carissime, e per di più sempre le più vergognose d'Europa, dopo spiego perché, ci ritroviamo con il rischio della fine della cassa integrazione e quindi tu hai le bollette domestiche con cui devi fare i conti e il rischio di non avere neanche più i soldi della cassa integrazione. E poi rischi di avere l'inizio, alla fine di ottobre, inizio di novembre, l'inizio di quelle pratiche di esproprio che toccheranno milioni di cittadini in sofferenza con le banche, indietro con la restituzione delle rate. Questo rischia di essere lo scenario di fine anno. E poi loro chiacchierano di Recovery Fund. Bene, allora facciamo così. Vogliamo giocare con le carte del Recovery Fund per abbassare le bollette? Molto semplice. Visto che dicono del New Green Deal, delle trasformazioni, addirittura si parla della trasformazione dell'ILVA con l'idrogeno, la grande rivoluzione. Allora io dico, facciamo che vogliamo più basso. E facciamo in modo che un qualcosa che va a intaccare tutte le famiglie, tutti i piccoli imprenditori, non i grandissimi energivori, anzi loro più spendono e zero pagano di oneri di sistema. Cioè quella parte di costi fissi che sta appiccicata alla bolletta del gas e della luce delle famiglie italiane e che rendono le bollette italiane le vergognose bollette d'Europa. Perché non capisco il motivo per cui se io consumo 5, 10, 15, 20, 30, poi io debba avere una percentuale di oneri di sistema, cioè finanziamento delle rinnovabili, spese di trasporto, IVA vergognosissima. Non capisco perché questa parte non viene cancellata, non viene spunta. Perché questi sono investimenti dello Stato. Perché devono essere accollati a noi. Se io consumo un tot di bolletta, pago quel pezzo che consumo, più ci metti un'altra percentuale di una tassazione, mettici quello che vuoi. È esattamente la stessa dinamica della benzina. Quando ti dicono, ah, ho voluto uscire dall'Europa e chissà dopo quanto costa il petrolio. Guardate che alla fine se vai a vedere quanto costa la benzina e qual è il reale consumo del petrolio e della materia viva, allora capisci che tutti i grandi costi che noi sosteniamo a livello di consumatori sono tutt'altro che la materia prima che andiamo a consumare. Ecco l'ingrande inganno. Quando dicono, ah, poi vi voglio vedere fuori dall'Europa come pagate il petrolio. Vai a vedere quanto paghiamo in più rispetto a quello che consumiamo. Quindi allora, io dico, cari signori governanti, visto che avete i tanti soldi del recovery fund, fate in modo che tutta quella parte degli oneri di sistema che entrano nel New Green Deal, no? Allora quindi tutta la parte che riguarda il finanziamento delle rinnovabili viene completamente assorbita, tolta dalla nostra bolletta, viene completamente assorbita dal New Green Deal, quindi dal recovery fund, oppure ancora le spese di trasporto idem vengono assorbite da quella roba là, ok? Se invece non vogliamo stare nella galassia del recovery fund, molto semplicemente facciamo in modo che quella parte di incentivo, come avevo già proposto, perché io avevo già proposto un emendamento in tal senso, ma è stato bocciato sistematicamente questo emendamento che vuole togliere gli oneri di sistema, viene bocciato dalla maggioranza. Addirittura me lo fecero quando io già ero in maggioranza, figuriamoci un po'. Quindi io dico, togli gli incentivi dai produttori di energia verde, li trasferisci alle famiglie, in modo che se io consumo energia verde, perché devo avere in bolletta il finanziamento delle rinnovabili, io sto già consumando energia pulita, quindi mi devi premiare, esattamente come dovremmo essere premiati tutte le volte che stiamo attenti al risparmio energetico, e invece in bolletta questo non accade, non accade. Allora, bollette meno care si può, basta volerlo, basta dire, cara Europa, tu ci devi i soldi delle recovery, vogliamo utilizzare i soldi del recovery? Bene, io vado a svuotare di oneri di sistema le bollette degli italiani e gioco quella partita lì. Io che tranquillamente farei anche a meno dei soldi del recovery, vi dico che togliamo tutti gli incentivi ai produttori di rinnovabili, li trasferiamo ai consumatori, quindi i consumatori che consumano energia pulita, energia verde, vengono premiati in bolletta, quindi chiederanno sempre più energia verde e i produttori di energia verde saranno premiati dal mercato stesso, dalle dinamiche del mercato, che è questa parola che piace sempre agli imprenditori, poi quando si tratta di togliere a loro gli incentivi, ecco che fanno orecchie da mercanti, a cominciare da quelli che erano presenti ieri in Confindustria, quelli che pagano di energia pagano di meno, o perché sono energivori o perché come produttori si prendono gli incentivi dallo Stato, ok? Invece noi abbiamo le bollette sempre più care, ad ottobre vi ripeto che avremo le bollette ancora più care, quindi come vedete le soluzioni ci sono. Vi anticipo che una delle primissime iniziative ai gazebo di No Europa per l'Italia sarà quella di raccogliere le firme per togliere gli oneri di sistema, per togliere gli oneri di sistema dalle bollette quegli oneri che erano stati aggiunti, aggravati con la riforma di Renzi che oggi, guarda caso, è al governo con Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Benissimo, bollette meno care si può, basta volerlo, basta avere le idee chiare su come aiutare realmente le famiglie italiane, i piccoli imprenditori e poi premiare chi è capace anche di fare un po' di risparmio energetico. Ciao a tutti!